Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto soprammobili natalizi un tier piramide Frauenkirche. Questa piramide Wonderfood con la famosa Frauenkirche di Dresda è fatta da M. Hüller-Kleinkunst. La chiesa è illuminata con le batterie e l'elica gira con il calore generato dai tè luce delle candele. Questa piramide è un altro grande pezzo fatto a mano da M. Hüller-Kleinkunst Seehafen. Made in Germany. Fatto a mano in Germania. Premium produttori. Navi direttamente dai monti metalliferi in Sassonia. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, Clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.